Come è nata questa manifestazione? Nasce da un incontro con Gio Brosi avvenuto a Roma nel 2005, Roma dove ho organizzato una partita di calcio fra pompieri di Roma e pompieri di New York e nazionale dei sindaci italiani. Per cui quella è stata l'occasione in cui ho conosciuto Gio Brosi nel 2006, sono stato a New York, ospite loro e mi hanno portato a visitare il loro museo a Manhattan e da lì è nata l'idea, visto il museo delle autostoriche dei pompieri di Mantua che sicuramente è uno dei musei più belli al mondo, è nata l'idea di invitarli, di invitare i pompieri di New York a Mantua in occasione del decennale dell'attacco alle Torri Gemelle per poter realizzare questa amicizia e consolidare un rapporto che credo che nel tempo porterà dei frutti molto importanti. Stasera ci sarà in Piazza Castello un concerto proprio dedicato alla memoria dell'attacco alle Torri Gemelle con l'orchestra del Teatro Verdi di Buscoldo diretta dal maestro Anselmi in cui saranno eseguite le aree delle opere più famose al mondo. Naturalmente ci sarà inserito anche un omaggio dedicato direttamente ai pompieri di New York. Voglio ricordare che stasera il concerto è gratuito per cui sono tutti invitati a partecipare, e ci farebbe piacere che ci fosse una cornice degna di quanto hanno fatto i pompieri di New York per la solidarietà nel mondo. Hanno lavorato molto duramente, soprattutto per molti molti mesi, subito dopo la tragedia, per riuscire a mettere le basi per la ricostruzione. Hanno cercato di lavorare partendo appunto dalle cose più basilari, dal basso proprio, e hanno cercato estremamente fino a che hanno potuto tutti i loro appunto parenti, amici, soprattutto loro vigili del fuoco che sono intervenuti subito, sul momento. Hanno cercato ovviamente di salvare tutte le altre vite umane che erano imprigionate in quei due edifici. Purtroppo sapevano che se non fossero riusciti a uscire in tempo, prima che l'edificio crollasse, non sarebbero più riusciti ad uscirne. Cosa significa per voi che la città di Mantua vi abbia dedicato queste giornate? Sono molto contenti e onorati di questa opportunità, anche perché non solo è una dimostrazione nei confronti della comunità mantuvana, ma anche della comunità italiana, del legame che c'è con gli Stati Uniti e comunque con queste comunità che hanno sofferto tantissimo. E soprattutto è anche una via per loro per evadere un attimo e prendersi una pausa, diciamo perché saranno molto molto impegnati negli ultimi due mesi a New York. È un'opportunità straordinaria anche perché New York, per quanto sia meravigliosa e grande, è comunque una città recentemente edificata e nuova. E qui invece è come entrare in un altro mondo, è tutto perfetto, tutto conservato perfettamente. Soprattutto i membri della loro squadra di calcio più giovani non hanno mai avuto l'opportunità di girare così tanto il mondo e quindi è un'ottima opportunità questa. È un'ottima opportunità.